Cosa c'è di meglio di uno scontro assurdo tra Vegeta Ultra Ego e Cooler nella sua forma finale Golden? Beh, uno scontro del genere molto lungo, sì perché è durato parecchio, però questo ragazzi sarà l'ultimo capitolo in realtà di cui parleremo per quanto riguarda questo scontro qui, perché poi ci sposteremo verso altri schieramenti di questa grande guerra. Allora, bentornati su Dragon Ball Akai e bentornati su Red Saiyan, il canale dedicato alla Lord di Dragon Ball e a tutte queste storie fanmade che stiamo portando ultimamente. Come sempre ragazzi vi ricordo di iscrivervi al canale, di mettere mi piace per aiutare il progetto e in più vi ricordo una cosa importantissima prima di iniziare, ovvero che in descrizione trovate il link al nostro negozio Red Oak e in particolare vi ricordo che su Red Oak trovate un sacco di poster, tra cui questo, dedicato proprio tra l'altro all'argomento di questo video. Ho detto questo, io direi che possiamo cominciare e partiamo esattamente da dove ci siamo fermati l'ultima volta. Goku finalmente si trova faccia a faccia con Odisu, quello che sembra essere il mago oscuro più potente di tutti, il grande mago degli elementi, che già un po' ci suggerisce quelli che potrebbero essere i suoi poteri. Il design è chiaramente quello di un Saiyan e Goku dice agli altri due Kaioshin, quindi poche parole, Kiboru e Liai, per favore andate via e lasciatemi questo tizio a me. Kiboru dice, perfetto, io non sono d'accordo, ma già effettivamente aveva espresso le sue perplessità prima, però tu sei il dio della distruzione, quindi non ti vorrò contraddire. Allora facciamo così, Liai, andiamocene via. Liai però, che sembra essere molto più coraggiosa di una normale Kaioshin, evidentemente anche colpa o grazie al legame con Goku, dice, no, io sono la divinità, la dea di questo universo e quindi neanche io mi uovo da qui, anche io affronterò quel tizio. Vediamo però che Odisu inizia a guardare al Kaioshin. Evidentemente, anche Goku lo capisce, si è reso conto che quella è il Kaioshin legata proprio al dio della distruzione e quindi potrebbe prenderla di mira. Goku quindi urla Liai di andarsene perché evidentemente Odisu sa del legame tra i Kaioshin e l'idea di distruzione e questo potrebbe essere un grandissimo problema. Gli occhi di Odisu iniziano a uscire delle fiamme e dice, prima però partiamo da te. E di fatti ce l'ha questa volta con l'altro Kaioshin che ha accompagnato effettivamente gli altri due in questo viaggio nel pianeta Camaleonte e inizia a sentire una strana sensazione. Kiboru inizia a soffrire, c'è qualcosa che non va nel suo corpo. E come se non fosse niente, il Kaioshin non solo inizia a diventare molto molto caldo, ma si dissolve di fronte agli occhi di Liai che guarda impotente la morte di questo suo maestro. Liai è sconvolta e cade a terra piangendo. Ovviamente di Kiboru non rimane nulla, solo della polvere. E Goku dice, sei un mostro, ma perché l'hai fatto? Quello non era assolutamente una minaccia per te. E Odisu risponde, a prascindere del livello di potenza, quello è un nemico. E un nemico è sempre da eliminare, quindi doveva essere eliminato semplicemente. E inizia quindi ad arrabbiarsi e si carica e si lancia verso Odisu. Ma prima di arrivare al bersaglio sente un dolore al petto. Sente come se il suo corpo si stesse distruggendo completamente, cosa che mette in pericolo, come sapete, anche Goku. Inizia a sanguinare dalle orecchie e dalla bocca. Goku arriva in suo aiuto, la prende e prova ad utilizzare la Kai verso il suo avversario, così subito all'inizio del combattimento. Goku utilizza tra l'altro tutto questo, tra l'altro ovviamente la Kai, sapete che Goku ancora non l'ha imparato al 100%, quindi vi lascio immaginare che effetti ha avuto. Comunque riesce ad andarsene via distruggendo le pareti del vulcano per portare fuori gli Ai. Adesso che sono all'aperto, ora i loro sensi funzionano di nuovo al 100%, quindi la Kaioshin può tranquillamente teletrasportarsi col Kai Kai via nel suo pianeta, diciamo così, così da lasciare Goku da solo, spiegando ovviamente che se dovesse morire, allora anche Goku lo farebbe. Lei ovviamente voleva solo ed esclusivamente vendicare Kiboru, però è anche vero che adesso questa sfida deve essere lasciata solo ed esclusivamente al Saiyan. Li Ai accetta, anche se un po' male in cuore, perché lei vorrebbe vendicare Kiboru, ma ovviamente deve lasciare il tutto a Goku, che si prepara al combattimento. E neanche a dirlo, ragazzi, dal vulcano escono dei fulmini, e da questi fulmini viene fuori proprio Odisu. Dice, finalmente adesso io e te siamo da soli. E Goku inizia a parlare chiedendogli, ascoltami, tu sai del legame tra me, il dio dell'istruzione, e il Kaioshin? Quindi perché hai deciso di uccidere Kiboru e non Li Ai? Perché se l'avessi fatto, a questo punto non avresti dovuto affrontarmi. Odisu risponde, pensi davvero che avrei optato a qualcosa così disonorevole? Io non sono così codardo. E in più è anche lo stesso motivo per cui non me ne sono andato una volta a aver preso la bestia ancestrale. Perché io voglio combattere con te. Goku gli chiede, ok, perché vuoi davvero così tanto combattere con me? Odisu non risponde, dice che non c'è bisogno di darti una risposta, semplicemente voglio combattere. E ovviamente anche Goku, ragazzi, non vede l'ora di iniziare questo combattimento. La nostra attenzione però si sposta nuovamente all'universo 7, nei pianeti Queen, che ormai sono completamente distrutti. Sull'ultimo pianeta Queen è rimasto, ci sono delle calamità che lo stanno distruggendo a sua volta. Da una parte abbiamo Vegeta, nel suo ultra ego, sanguinante, ma ancora che cerca il combattimento. E dall'altra un cooler, nella sua forma finale, nella sua forma golden, che non ha più un braccio e parte del suo corpo. Vediamo che entrambi caricano, come promesso effettivamente dal capitolo scorso, il loro colpo più potente. Ve lo ricordate, hanno deciso semplicemente di non continuare più il combattimento, ma di utilizzare il colpo più potente che hanno in assoluto. Infatti Vegeta si prepara a una final flash, mentre invece Cooler crea una sfera di energia immensa. I due attacchi partono e l'attacco di Cooler si chiama Galactic Devastation, che è un po' il destino dell'universo se dovesse vincere questa battaglia. Questo combattimento non poteva che finire in un modo proprio alla Dragon Ball. Quindi con due pezzi di energia, due parti di energia dei protagonisti che si scontrano, facendo esplodere tutto. Da una parte vediamo Vegeta che pensa a Cooler, dicendo Cooler, tu sei il guerriero leggendario. Io da piccolo ho sempre sentito parlare di te, della tua leggenda. Mentre invece Cooler, dall'altra parte, pensa a Vegeta, ma in modo inverso della serie. Vegeta, tu sei il principe dei Saiyan, una razza che io ho sempre detestato. Dei vermi in confronto alla mia, in confronto a me in particolare. Però Vegeta dice, io mi sono sempre allenato. Sempre allenato, tenendo in mente anche la tua leggenda. Ho sempre raggiunto il mio limite e sempre l'ho sorpassato. Eppure, nonostante questo, ancora riesci a tenermi testa. Cooler continua a pensare, io questi Saiyan li ho sempre considerati delle nullità in confronto a me, in confronto alla mia famiglia. E quando Freezer, mio fratello, mi ha raccontato dei Saiyan e della forza che avevano raggiunto, non ci potevo credere. Pensavo stesse esagerando. Eppure, anche se non lo dirò mai ad altavoce, veramente hai dimostrato di essere degno di questo onore dei Saiyan. E dall'altra parte, anche Vegeta, di nuovo, mi sono sempre considerato come il Saiyan della leggenda. Colui che avrebbe distrutto Freezer e la sua famiglia. Però, devo dire una cosa, nonostante io vi detesti, anche lì Vegeta non lo dice ad altavoce, Cooler sei veramente incredibile. Entrambi finiscono per farsi complimenti a vicenda senza dirselo. Diciamo che in questo Dragon Ball Akai, Cooler è stato costruito un po' come una sorta di Vegeta sotto certi punti di vista. E questo scontro non poteva che essere così figo. Scontro, come detto prima, alla Dragon Ball, che finisce alla Dragon Ball. Sull'ultimo pianeta Queen, infatti, vediamo un'esplosione, che non è un'esplosione. È una sorta di supernova che distrugge per intero il pianeta. E non lascia altro che un bagliore bianco che acceca chi è nelle vicinanze e anche noi lettori. E il capitolo, ragazzi, termina qui. Sì, perché Dragon Ball Akai finisce proprio così, almeno per quanto riguarda questo capitolo qua. Poi, ragazzi, ci vediamo, ovviamente, come sempre, domani per il prossimo episodio. Fatemi sapere, ovviamente, secondo voi, chi ha vinto, ma avrete la risposta a breve se continuerete a seguirci. Detto questo, vi ringrazio per essere qui con noi. Mi raccomando, fate i bravi. E noi ci vediamo prestissimo con altri video a tema Dragon Ball. Ciao a tutti, ragazzi.